E ora scoprite come cambierà fra poco andare in taxi. Spericolati, imprudenti, spesso pericolosi. Di fantozzi in giro per l'Italia ce ne sono fin troppi. Così 200 tassisti milanesi si sono dotati di un occhio elettronico, il Rodscan. Una piccola telecamera con localizzatore GPS è installata nella parte centrale del parabrezza, proprio accanto allo specchietto retrovisore. Uno sguardo all'esterno per vigilare su quanto avviene in strada, uno sguardo all'interno della vettura per difendere i tassisti dai tentativi di furti e aggressioni. Un progetto fortemente voluto dalla Fondazione Ania. La tecnologia, infatti, servirà per inalzare i livelli di sicurezza stradale. Ora, di fronte ad un incidente, sarà impossibile fare i furbi o dire di non aver visto nulla. Premi! Ma l'ha visto così? Cosa? Come cosa?